Grazie Presidente, colleghi e colleghe, anch'io intervengo in quest'Aula per dichiarazioni di voto e per esprimere il mio voto contrario, un voto contrario con piena, pienissima convinzione di quello che ai fini della cronaca è ormai noto come il decreto rave, che però in realtà diciamo, è anche venuto fuori, emerso dal dibattito lungo che sta avvenendo in queste ore con i rave party ha veramente poco a che fare e guardate devo confessare che all'inizio quando ho iniziato a vedere le prime agenzie di stampa, a leggere le prime notizie rispetto a questo decreto legge, per qualche istante, pochi devo essere sincera, pochissimi, pensavo di aver interpretato male il senso di questo decreto, cioè avevo pensato di aver capito male io. Anche perché lo sappiamo, spesso le agenzie tendono a magari semplificare i messaggi e quindi poteva anche essere plausibile. Invece questo istante è durato veramente pochissimo, forse anche meno di un istante, perché non solo avete oggettivamente scritto un obrobrio, perché di questo si tratta, ma ci tornerò, ma durante l'iter, durante le discussioni, durante anche gli interventi in aula che ci sono stati, siete riusciti addirittura a far capire che questo decreto è molto peggio di quello che avevate immaginato e partorito all'inizio. Per non parlare ovviamente di quel famoso blitz che è stato ampiamente raccontato in commissione con cui avete reso questo obrobrio un qualcosa che ancora peggio di un obrobrio è. Ed è stata un'impresa ardua, ma vi faccio complimenti perché ci siete riusciti, perché colleghi e colleghe, quello che ci apprestiamo a votare nelle prossime ore, noi speriamo ancora di convincere vivamente a non votare questo provvedimento, come ho avuto modo di dire anche la scorsa notte, è un obrobrio da due punti di vista. Sicuramente dal punto di vista giuridico, io non sono tecnica in materia per cui non spetta a me certamente entrare nei dettagli, l'hanno fatto i colleghi e le colleghe della commissione nostra giustizia che ringrazio per lo splendido lavoro dettagliato che appunto hanno fatto, ma devo dire che anche una non addetta ai lavori capisce benissimo che è un obrobrio giuridico. Ma quello di cui io vorrei parlare nuovamente oggi in quest'aula, ed è il motivo per cui io non voglio votare, non voterò certamente questo decreto, è il fatto che questo è un obrobrio, e ci tengo che rimanga agli atti, dal punto di vista valoriale. Allora, quando una maggioranza, un governo porta in aula quello che è un obrobrio dal punto di vista valoriale, io francamente non voglio essere vostra complice. E guardate, io non voglio essere complice di questo provvedimento per almeno tre motivazioni. Potrei dirne tante altre, ma purtroppo solo dieci minuti e quindi ne potrò dire solamente tre. Innanzitutto non voglio essere complice di quello che è fumo negli occhi dei cittadini, perché guardate, questo governo ha usato questa fantomatica emergenza rave per in realtà distrarre i cittadini dai veri problemi, a cui non ha trovato una soluzione in questi mesi. E guardate, ho fatto la sindaca, so bene che è impensabile immaginare nei primi mesi di governo di poter risolvere tutti i problemi della propria città o del proprio paese. Quindi so benissimo quanto sia complesso. Però è palese che questo fumo negli occhi, a che cosa serve? Serve a nascondere quelle divisioni interne che ci sono nella vostra maggioranza e la totale mancanza di uno straccio spesso di accordo politico sulle scelte. Per non parlare della visione di futuro, che francamente non c'è, ma di questo abbiamo già discusso ampiamente nella manovra. Divisioni come quella che abbiamo visto su opzione donna, sullo scostamento sì-no rispetto al bilancio per dare risposte sul caro bollette, sulle politiche internazionali su cui dovremmo aprire ore e ore di discussione, sull'energia, sulle pensioni, insomma divergenze evidenti. E allora, vedete colleghi e colleghe, usare il rave di Modena come pretesto per far partire una propaganda da sbandierare come identitaria e coprire la vostra incapacità cronica di rispondere in modo concorda ai cittadini sulla mancanza del lavoro, sul caro vita e sulla sicurezza, sapete cos'è? Per me è semplicemente meschino. E allora, diciamocelo, le norme per affrontare i rave party ci sono già. E non lo dico io, lo dicono i fatti. Il rave di Modena è stato risolto senza questa norma. E sapete cos'è ancora più meschino? È ancora più meschino usare un tema così sentito dai cittadini e dai cittadini come il tema della sicurezza per fare propaganda. Perché i cittadini oggi giustamente chiedono a chiunque rappresenti le istituzioni di avere una risposta su un tema così importante come la sicurezza reale e percepita. Però io non so a voi, non so voi in che paese viviate sinceramente, ma nel paese in cui vivo io, cioè l'Italia e nella mia città Torino, a me i cittadini non hanno mai chiesto, non hanno mai detto che sentivano o percepivano un'emergenza sui rave party. Ma sapete cosa mi chiedevano? Mi chiedevano di garantire un'adeguata presenza di forze dell'ordine sul territorio, perché sì, ce ne sono troppo poche, di risolvere l'annosa questione dei campi Rom, di intervenire sulle occupazioni abusive irrisolte da anni rafforzando politiche come il Fondo Salvastratti che invece voi non avete voluto rafforzare con la manovra finanziaria. Mi chiedevano perché uno Stato che dovrebbe essere presente, che dovrebbe essere capace di dare risposte, perché i cittadini e cittadine che vivono spesso nelle nostre periferie esistenziali e non fisiche, esistono periferie anche a pochi metri dal centro delle nostre città, perché in quelle periferie accade che le forze dell'ordine che ringrazio fanno sforzi enormi, corretate, interventi e 24 ore dopo quegli spacciatori che sono stati arrestati sono di nuovo lì. Pensate al senso di impotenza che vive un cittadino quando vede una situazione di questo tipo. E allora quando si parla di sicurezza i cittadini ci chiedono anche di prevenire, perché la sicurezza non è solo repressione, la sicurezza è soprattutto prevenzione. E allora le politiche sociali, e allora interventi per i più fragili, ma anche di questo abbiamo ampiamente discusso. Non capiamo perché questo Governo invece di rafforzare le politiche sociali decide di smantellare quelle protezioni sociali che già esistono come reddito di cittadinanza. E francamente da un Ministro, di cui io personalmente ho visto all'opera come prefetto e quindi che conosce queste dinamiche, io francamente non riesco a capire come abbia potuto partorire un intervento, un decreto legge, scritto male, strumentale, che introduce pene sproporzionate, poiché incoerenti con l'attuale impianto del codice penale e che prevede l'uso delle intercettazioni per questo nuovo reato inutile. Nello stesso momento in cui il Governo invece, ma è stato già detto, è intenzionato a indebolire l'uso delle intercettazioni per reati ben più gravi. E quindi non voglio essere complici di questo. Ma io non voglio neanche essere complici, arrivo al secondo punto, di corrotti e mafiosi. Guardate, in questo momento storico sicuramente di una cosa non abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di abbassare le difese del nostro Paese contro la corruzione. Lo stiamo vedendo cosa sta accadendo in Europa. Girano contanti, mazzette, quelle che voi avete detto per anni, che non sarebbe più visto perché non si usavano i contanti per corrompere. Le stiamo vedendo queste cose. E cosa fa questo Governo? Abbassa le difese immunitarie. Questo è un Paese che sta per, anzi ha già immesso, sta emettendo 200 miliardi di risorse economiche tramite il PNRR. Un'elezione mai vista. E voi cosa fate? Riducete le barriere di protezione rispetto a reati contro, i più gravi, la pubblica amministrazione. Allora, guardate, io avrei potuto sospettare che un Governo di centro-destra non avrebbe rafforzato gli anticorpi che noi, con coraggio, chi era qui nella scorsa legislatura, ha in qualche modo rafforzato. Non mi aspettavo che facesse in qualche modo un passo in avanti. Ma almeno lasciare quello che c'è. Almeno lasciare quello che c'è. Mai mi sarei immaginata, nemmeno nei miei peggiori incubi, che si potesse tornare indietro. E guardate, la logica vostra è piena di contraddizioni. Perché voi siete la maggioranza e il Governo che in campagna elettorale ancora in quest'Aula, per mesi, per mesi, ci ha raccontato che bisognava abolire il reddito di cittadinanza perché c'erano le frodi nel reddito di cittadinanza. Allora, da 2017 al 2021 sono emerse frodi per circa 34 miliardi. Ricordo a quest'Aula che lo 0,8% si riferisce al reddito di cittadinanza. Quindi sono circa, insomma, neanche 300 milioni. E lì però bisogna intervenire. Ma? Mazzette appalti truccati che valgono il 35%, quindi 12 miliardi, quello si possono chiudere gli occhi? Su quello possiamo abbassare le difese? Capite che è una contraddizione nei termini, ma anche nella sostanza. E allora io non voglio essere complice di chi guarda, aiuta, strizza l'occhio a corrotti e mafiosi. Arrivo al terzo punto. Io non voglio essere complice del reintegro dei medici Novax. Gli sviluppi, ne abbiamo parlato in quest'Aula, nelle ore precedenti, che il Covid-19 sta avendo in Cina, su cui è relazionato in quest'Aula appunto il ministro Schillaci, dovrebbero far prestare a tutte e a tutti noi il doppio dell'attenzione riguardo alla pandemia. E invece dopo aver tagliato sulla sanità nella legge di bilancio, mentre il mondo della sanità lamenta la necessità di recuperare soldi e risorse anche a causa degli extracosti dovuti alla pandemia per 3,8 miliardi, vi presentate anche su questo con messaggi ambigui e pericolosi. Allora, su un tema così delicato dovremmo essere d'accordo tutti che serve chiarezza. Oggi reintegrare i medici è un messaggio, un qualcosa veramente dal mio punto di vista non dignitoso. E sapete perché? Qual è il messaggio che è dato al personale medico e sanitario e ai cittadini che magari facendo dei sacrifici e nutriendo dei dubbi hanno rispettato le regole? Come fate a mettere sullo stesso piano chi ha pensato al bene comune e chi invece è mosso dell'egoismo? Non lo ha fatto. D'altro canto voi da cittadini vi mettereste nelle mani di personale medico e sanitario che non si fida della scienza? Io preferirei sapere che il dottore che mi ha in cura, che mi sta curando, crede nella scienza. Come preferirei, ad esempio, che il maestro di matematica di mia figlia credesse nei numeri, nell'algebra, nel teorema di Pitagora. Onorevole conclusione. E chiudo, Presidente, sto andando verso la conclusione. Questa è la domanda che voglio porvi, colleghi e colleghe. Se domani, e io mi auguro di no, se domani dovrete mettere delle nuove regole, magari restrittive, che chiedono sacrifici, ma con quale credibilità lo farà questo Governo? Con quale credibilità guarderete negli occhi cittadini e cittadini e direte loro che devono rispettare le regole quando avete appena chiuso gli occhi, anzi favorito chi quelle regole non le ha rispettate? E allora concludo, Presidente. Io davvero mi chiedo, in quale Italia viva questo Governo? Un'Italia in cui la priorità è fermare l'inesistente emergenza rave party, invece di dare risposte ai cittadini su spaccio, occupazioni abusive, pericolo di sfratti. Un'Italia in cui per aiutare la sanità pubblica si reintegra il personale, Presidente, sto chiudendo Novax, invece di mettere a disposizione risorse adeguate, che puntualmente vengono tagliate. Un'Italia in cui si tende la mano a corrotti, corruttori, mafiosi, invece che schierarsi a fianco di cittadini piegati da disuguaglianze, povertà e precarietà. E allora, e ho chiuso davvero, Presidente, la ringrazio della pazienza. In quale Italia vive il Governo? In quale Italia stiamo vivendo? Certamente ho una conclusione da fare, un'ultima cosa da dire, un'unica certezza. L'Italia in cui vive questo Governo non è l'Italia in cui vivo io. Grazie, Presidente.